Salve a tutti, bentrovati. Bentrovati. Siamo qui sempre con Goffredo Bagnoli, questo è il secondo video dove ci presenterà altre poesie della sua raccolta anteriore al futuro. Eccola qui. Però prima volevo fare un passo indietro e spiegare che ho scelto lui e le sue poesie, la sua raccolta, perché leggendole mi hanno rammentato in tanti aspetti da indagare insieme a voi, anche solo toccandoli così un po' a random, sul postmoderno e quella che è una poesia che è molto attuale e di cui se ne è parlato molto, ma che lui mi ha rievocato per diverse tematiche che ritroviamo nelle sue poesie in particolare. E quindi si prestava questa occasione come esperimento proprio di scambio per creare qualcosa insieme, proprio tra lettore o fruitore e poeta. Allora comincio con una delle mie poesie che ricordo sono state scritte una trentina di anni fa, quando avevo circa 19 anni o poco più, e poi sono state tirate fuori in questa occasione e date lette e riscoperte, ma anche da me in fondo un po' riscoperte. Questa poesia si chiama Strumento di calma, palma di primavera, ananas di cespuglio, ti nascondi verso di nuovo il letto per sfuggire alla mia maledizione, tutto è già stato pensato e non c'è altro da dire che dire che dire che dire, tutto è già stato pensato. Questo lo diceva anche Nietzsche nell'opera, la genealogia della morale, che vi invito a leggere, e lo diceva in senso critico, fortemente critico, dicendo ormai è già stato scritto tutto, ormai abbiamo perso il contatto con la storia e quindi con il tempo e quindi ormai non c'è più spazio per l'arte, per fare arte. Ma tu pensi che sia così? Eh, invece io sono qui proprio e noi siamo qui proprio per dimostrare, in qualche modo dare esempio del contrario, dell'esatto contrario, di come si possa creare e rivificare continuamente un qualcosa che può essere stato detto e ridetto e stradetto e non importa, la poesia la può fare chiunque. E a questo proposito, quando ti sei richiamato ai tuoi 19 anni, mi hai fatto venire in mente Borges e i suoi 19 anni, quando lui a 19 anni diceva, è un puro caso che io in questo momento sia lo scrittore e tu il lettore. Nell'ottica di dire, in realtà noi siamo nulla di fronte alla poesia, alla forza della parola, che ci preesiste, che è anteriore al futuro, come un po' hai intitolato tu. E quindi non voleva depotenziare la poesia in questo momento Borges assolutamente, ma anzi voleva proprio dire che noi siamo parte di questo flusso e ripetendo, rifacendo, non dicendo niente di nuovo, non diciamo banalità, ma al contrario creiamo nuova linfa. E questo vogliamo in qualche modo nel nostro piccolo fare, vero Goffredo? Sì, l'aspetto temporale è peraltro presente nelle mie poesie. Allora io direi che ne leggo un'altra, che si chiama Visioni di un'idra, è divisa in tre parti e ne leggiamo tre parti separate. Visioni di un'idra, la prima parte è Occhi fenocchi. Grido il tuo nome, e l'eco della palude ne deforma i contorni. Merletto di ragazza, quasi artificiale, ti diffrangi e mi avvolgi rossastra. Accolgo le tue gocce nell'allontanamento in camera oscura. Bocca arcobaleno, fammi riempire di te cigno vellutato rosea nel tramonto. Qui è molto potente, molta energia, e ci rammenta il privilegio di essere vivi. Perché la poesia, noi siamo qui anche per chiederci, interrogarci cosa ci dà la poesia, cosa ci dà lo scrivere. E l'arte non ci può liberare dalla vecchiaia, dalla morte, o essere antidoto di malattie, di guerre. Ma ci può però, come ci dice Tarkovsky, dare dei segnali. Le opere d'arte sono capolavori sparsi nel mondo come segnali di avvertimento in un campo minato. E qui quanti colori, quante immagini, quanti segnali. E questo patto tra lo scrittore e il lettore, non presuppone un talento particolare. Qui non per sminuire Goffredo assolutamente, anzi, proprio per dire, per far capire che tutti possiamo scrivere, ma per che cosa? Non per spiegare o per essere vati. Non esiste più il poeta vate, il poeta guida, il poeta che ci sale ex cattedra e ci spiega come è fatto il mondo. Il poeta può essere un mediatore, un portavoce, portavoce della realtà in cui viviamo, attraverso l'intuizione, dove si annullano le leggi di causa-effetto in poesia. Non esiste più una spiegazione razionale, qui non siamo qui per spiegare le poesie di Goffredo, ma siamo per sentirle, per farcele nostre carnalmente, come lui in modo molto carnale ce le fa sentire con le sue visioni e anche con gli aspetti uditivi, ritmici, che non sono da meno, essendo lui anche e soprattutto un musicista. Sì, buona parte delle mie poesie hanno, nella mia intenzione, un aspetto ritmico non secondario, un aspetto di immagini, un aspetto sonoro, un aspetto di contrasto che spero si senta e che voglio far emergere. In questo specifico caso, in quella che ho detto adesso, nella prima parte di Visioni di Unidra, la mia intenzione era, proprio come hai detto tu prima, dare un colore. In questo caso era un colore addominante rossa, rosea, rossastro, ma anche, quando dico bocca raccobaleno, non a caso c'è l'insieme dei colori. In altre parti ci possono essere dei materiali, materiali duro che invece si flette, ci possono essere delle parti di corpo che soffrono, che crescono, che creano dolore, sempre e comunque c'è, diciamo, una sonorità che nella mia intenzione deve essere, viene alla lettura e all'ascolto, viene in primo piano. Tutto quello che però hai detto tu, naturalmente c'è ed è presente, perché nel momento stesso in cui ho scritto la poesia e non le ho buttate, le lascio a disposizione dell'ascoltatore e quel patto che hai detto, che c'è tra poeta e lettore, in questo momento, insomma, è quello che cerchiamo di rendere palese, rendere evidente. E infatti nelle tue poesie, come ben hai detto, c'è proprio questa ricerca di materiali, materiali a volte stato della materia allo stato liquido, altre volte con visioni di pesci, anfibi o proprio acqua di mare o al contrario materiali molto solidi, come il marmo o aspetti anche metallici. Andiamo... Sì, e quindi leggerei questa seconda parte di visione di un idra che credo che ti potrà dare spunto per andare avanti. L'idra, infatti, dai. Pearl Harbor Dunque l'onda schiumosa della calce viva si inabissa sulla scogliera del ricordo e cancella le tracce della mia figura digitale, come foresta di salici, offuscata dai vapori del rogo. È insicura la mia mano, langue tiepida insieme alle prime rovine. Sfarsi da eretico sul vuoto mentale durante l'ascesi. Bellissimo questo otto che si ripete, che sembra proprio già qui, in questo otto che si ripete, c'è già tutta la poesia. È così, il centro della poesia è questa sequenza di otto letti come li ho detti io. Ecco, in questo senso ritmico. Sì. Come qui io mi richiamo a Simone Veil, non c'è niente da capire o da spiegare, ma come diceva lei, la verità della poesia è una verità ineffabile, indicibile. Tante parole, ma che non forniscono una spiegazione, ma vogliono essere in qualche modo ricerca intuitiva di energia continua che si rinnova. E anche in qualche modo profetica, del futuro. Non perché la poesia ci dice quello che accadrà nel futuro, ma ci fornisce quelle strutture che ci permettono poi di proiettarci meglio nei confronti proprio di un mondo che si rinnova e di cui noi facciamo parte. E anche qui io ci ritrovo molta attualità, tanti anni dopo, molti aspetti che sono ancora giovani e rinnovabili. E qui anche in questa onda schiumosa, in questa calceviva, nella scogliera, nei salici, nei vapori, troviamo il senso che dicevo prima di nullificazione. scompare il nostro ego. Scompare. In effetti scompare tanto che dopo la sequenza di otto, io dico, sfarsi da eretico sul vuoto mentale. Si crea proprio questo vuoto, dove non c'è più ego, quell'ego a cui noi siamo tanto affezionati e dove l'esperienza del poeta si universalizza nel respiro del mondo. Quindi leggo la terza visione dell'Idra. Wiki Wo Chi Tenochtitlan Impossibile la vita di profeta passata in camere d'albergo a fotocopiare pagine di dizionario. Ah! Tutto quello che si può anticipare è già raccolto in alte parole d'Ada ed è allettante seguire le orme dei padri, mentre è certo l'errore. Il genio dell'uomo si è manifestato nell'invenzione del suicidio. Non resta che scriverne la cronaca e vagare nell'astronave dell'egoismo col proprio corpo vuoto di desideri. Da una grande altezza ah! Ma le storie migliori sono quelle prive di fine. Quindi qui veramente c'è di nuovo tutto quello che abbiamo detto, perché abbiamo questo senso del passato che ci preesiste ma che poi diventa futuro e addirittura diventa infinito, infinito, diventa qualcosa di senza fine, privo di fine. E poi abbiamo anche questo fotocopiare pagine di vocabolario tutto quello che si può anticipare è già raccolto, è già raccolto. Quindi vedete come tutto già preesiste e il poeta non è altro che il mediatore, il portavoce, ancora una volta ribadisco, di un qualcosa che è già nelle nostre fibre, è già in noi e che il poeta non fa altro che farlo emergere e in questo caso proprio è così. Beh sì, allora, laddove nella poesia che avevo letto all'inizio tutto era già stato pensato, qua dico tutto quello che si può anticipare è già raccolto nelle pagine d'Ada. Addirittura, addirittura. Diciamo, laddove volessi trovare un'organicità nelle mie poesie o dei temi ricorrenti, questo probabilmente era un tema al quale tenevo allora il fatto che comunque le parole hanno una potenza, le parole scritte anticipano il futuro e messe, assemblate in un certo modo piuttosto che in un altro hanno significati, sensi sempre diversi, sempre maggiori e naturalmente è anche vero che quelli prima di noi possono averle già pensate o anche già detto. E noi adesso stiamo facendo questo, stiamo facendo tempo, come direbbe Bergson, tempo non quello lineare, scientifico dell'orologio, ma il tempo della coscienza, il tempo della durata, il tempo prustiano anche, se vogliamo fare un altro richiamo letterario, dove c'è sempre questa guerra contro il tempo, ottimizzare il tempo, tempo che nella poesia diventa invece qualcosa che si rinnova continuamente, che muove, assale, rompe, dirompe, come avviene in moltissime tue poesie, si ritrova nella circolarità e in ciò che è preesistente e che poi anche invece è proiettato verso il futuro. Allora direi che potrei a questo punto leggere l'ultima poesia del nostro incontro di oggi che apre una piccola finestra su quello che era il mio mondo allora, una finestra non elettronica in questo caso e cito una delle poesie che abbiamo letto la volta scorsa che si chiamava Finestra elettronica. Che è stata messa in musica, musicata. che a suo tempo musicai. Questa qui che si chiama Giallo su blu non è stata musicata ma ha anche qui degli aspetti in me direi senz'altro ricorrenti e che credo che nell'ascoltare si possano capire senz'altro i contrasti sia di immagine sia sonori delle parole. Giallo su blu Non migliorare modificazioni Accetta la progressiva ascesa Rinuncia a batterti contro Contro Tralascia di cercare Non c'è colpa Niente di acuto Frecce obese Mai più sibili ciechi Germi cigliati su specchi Solo lingue insaponate Urleranno bolle venefiche Dove puoi ritrovare le assurdità? Non affermare per ideologia Collabora all'elettronica argentea Ecco, qui noi troviamo veramente aspetti legati al pulp E a elementi in cui il poeta Come diceva Heidegger A proposito di un pittore Di Van Gogh Non un pittore qualsiasi Non ci vuole mostrare una cosa Ma ce la vuole far vedere Che è un po' diverso E anche qui io ritrovo Nelle tue poesie in generale In questa che hai letto In tante visioni Evocative Così come la poesia vuole essere Ma questo aspetto Di cui proprio Heidegger Metteva in luce E che lui diceva A proposito degli scarponi Di Van Gogh Che l'oggetto in sé E si può far poesia O dipingere qualsiasi cosa Non è importante in sé Né per il suo valore d'uso Né per il concetto che ha in sé Ma per quello che il poeta O l'artista in questione Vuole farci vedere Non ce li mostra gli scarponi Van Gogh Ma ce li fa vedere E anche tu Questi elementi Oggettivi Carnali Materiali Non ce li mostri Ma ce li fai vedere Sentire Evocare Anche essendo un linguaggio Il tuo Anche a livello proprio sonoro Direi che materiali Che stai dicendo Sono senz'altro Le frecce obese Che nella mia idea È un'immagine abbastanza forte Che sempre di rotondità E quindi di circolarità Si richiama ancora una volta Certo E tutto ciò viene urlato Da lingue insaponate Che urlano bolle benefiche E quindi Che contrasti che ci sono Che contrasti Il pulp Proprio Si il pulp Pulp antelittera Non sapevo neanche Che cosa fosse Il pulp Pulp fiction Era ancora al di là Da venire Tarantino Era Probabilmente Aveva Non so se è più vecchio O più giovane Di me Ma sicuramente All'epoca Non aveva fatto ancora film Però Però c'è già questo Gusto Dell'esagerazione E dello scuotere Attraverso una Negatività Che Si Si tocca Proprio Senz'altro Era Tattile Molto Violenta Cruda Molto L'aspetto tattile Fisico Carnale Di contatto Era sicuramente Presente In alcune delle poesie Che abbiamo letto La volta scorsa Ancora qui E ancora in quelle Che leggeremo Nel prossimo video Nel prossimo video Senz'altro Bene Avrò il piacere Di riavere Ancora qui Grazie Goffredo Vi saluto Spero vi sia piaciuto Questo esperimento Ne abbiate colto Il senso Noi ci siamo adoperati Il più possibile Per farvi Arrivare Tanti Tanti aspetti Su cui Riflettere E perché no Anche Sperimentare Voi stessi Di essere Fruitori E poeti Grazie Alla prossima Sperimentare Sperimentare